Anci sostiene la giornata nazionale contro la SLA che attraverserà tutto il mese di settembre con tantissime iniziative di beneficenza, di sensibilizzazione, di sostegno alla ricerca, che avrà un momento clou nella notte tra il 19 e il 20 e che vedrà coinvolte tantissime città italiane, tantissimi comuni che accenderanno uno spazio pubblico, una fontana, un ponte, un monumento col colore verde. A testimonianza simbolica di un'adesione a questa campagna, di un'adesione a questo impegno, di un'adesione a questo lavoro costante di ricerca. Penso che sia una buona causa, una buona causa di bene comune che vede insieme da un lato la ricerca che dobbiamo continuare a sostenere in ogni ambito e dall'altro il sistema dei nostri comuni e delle nostre città. La ricerca da un lato, le città dall'altro insieme per una buona causa, insieme per un buon fine, per continuare a lavorare sulla ricerca per contrastare la SNAP. Grazie. 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 Grazie.